buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di CIN Radio da parte di Maurizio Becci che vi farà compagnia fino alle ore 18 di questo venerdì 19 di settembre fatemi subito salutare Curtis in regia Ornella che ha appena finito le fatiche della giornata e il signor Miele ebbene sì da oggi il signor Miele sintonia giusta 100.7 CIN FM questo pomeriggio siamo ospiti siamo in trasferta come avete ascoltato da Ornella da questa mattina dagli amici di Cataldi Fresh Market siamo in quel di Woodbridge esattamente alla 140 di Woodbridge Avenue nella piazza italiana di Market Lane siamo per conto delle ditte San Daniele e Mastro e dopo la prossima canzone vi darò tutte le favolose strepitose offerte che questo magnifico supermercato offre da sempre alla propria clientela e adesso scateniamoci subito con la musica in arrivo Massimo Ranieri ma prima Elisa con Pagina Bianca Massimo Ranieri con la canzone 20 anni prima abbiamo ascoltato Elisa con Pagina Bianca ebbene sì sono le ore 2.14 minuti prima in questo pomeriggio di sole veramente si sta benissimo e noi siamo ospiti siamo ospiti oggi del supermercato Cataldi Fresh Market esattamente alla 140 di Woodbridge Avenue siamo oggi qui per racconto dei prodotti San Daniele e Mastro e andiamo a vedere subito alcune delle strepitose offerte che questo fantastico supermercato oggi ci offre per esempio sull'olio exavergine d'oliva da un litro marca San Giuliano 7,77 la bottiglia oppure un ottimo prezzo anche sull'aceto balsamico da mezzo litro marca Mastro 1,99 e poi ottima offerta anche sull'acqua naturale 6 bottiglie da un litro e mezzo marca San Benedetto 3,99 la cassa e poi c'è questo caffè inglese che ha più volte ricordato Ornella 340 grammi marca Lavazza che oggi vendano a 5,99 e poi c'è anche il decaffenato espresso marca Lavazza oro 250 grammi 4,99 la confezione e poi sempre per il caffè espresso che ha tanto amato da noi italiani sempre marca Lavazza qualità rossa o crema e gusto 250 grammi 1,99 un prezzo ottimo poi ci sono anche gli gnocchi marca Mastro da 500 grammi 1,49 poi il famoso tonno Riomare in olio 3 barattoli per 80 grammi oggi a 3,99 e poi le insalatissime Riomare da 160 grammi solamente 3,49 qui c'è anche la tavola calda presso di loro potete ordinare anche la pizza party size rotonda margherita peperoni e cheese a 9,99 luna e poi loro offrono anche il servizio catering per ogni occasione per battesimi comunioni cresime lauree anniversari compleanni e tutto quello che vi serve per festeggiare chiedete a Carolina e basta telefonare al 905 605 55 65 interno 25 ebbene sì allora io vi ricordo l'appuntamento venite a trovarci anche per un ottimo caffè espresso e per le rose per tutte le signore gentilmente offerte da Carisma Florist il nome giusto di oggi è senza dubbio Cataldi Fresh Market l'indirizzo giusto il 140 di Woodbridge Avenue e adesso continuiamo con la musica arriva lui Claudio Baglioni con Signora Lia Claudio Baglioni con Signora Lia alle ore 14 e 20 minuti primi ebbene sì in questa giornata di venerdì 19 di settembre è spuntato il sole la temperatura sta salendo siamo intorno ai 15 gradi ebbene sì adesso invece torniamo con la strepitosa musica italiana è la volta di Roberto Vecchioni la canzone Voglio una donna ma prima caro Curtis un po' di pubblicità stasera che sera erano i Mattia Bazzarra prima abbiamo ascoltato Roberto Vecchioni con Voglio una donna e io oggi 19 settembre devo fare devo fare degli auguri ad una persona speciale che ci segue sempre dall'Italia via internet abita a Firenze ma è una vellinese doc essendo nata ad Avellino tantissimi auguri di buon compleanno a Chiara Quintarelli da parte mia e di tutta Radio Cin un abbraccio lungo 10.000 chilometri a te Chiara ma anche ovviamente al marito Francesco Riccioli e la bellissima figlia Viola ecco qui per te questa canzone di Gianni Morandi Frasi d'amore buon compleanno Chiara bellissima ed emozionante canzone come sempre Gianni Morandi ci offre canzoni meravigliose era questa canzone Frasi d'amore dal CD Come fa bene l'amore ebbene sì siamo giunti alle ore 14.35 minuti primi io vi ricordo che oggi siamo in trasferta in questo venerdì 19 settembre siamo nel supermercato Cataldi esattamente nella piazza di Market Lane oggi siamo per conto delle dite San Daniele e Mastro e tantissime offerte ci sono tantissimi assaggini di Tonno Riomare e poi c'è i prodotti San Daniele assaggini dei prodotti San Daniele e Mastro e per le signore una bella rosa gentilmente offerta da Carisma Florist potete chiamarli al 905-848-23-00 venite a trovarci per gustare anche uno dei migliori caffè espresso di Woodbridge ma anche di tutto il GTE il nome giusto di oggi è senza dubbio Cataldi Fresh Market al 140 di Woodbridge Avenue e adesso arriva una bella canzone di Marcella Bella sole che nasce, sole che muore, eccola qua Marcella Bella e abbiamo ascoltato la canzone Vado Via di Drupi alle ore 14.46 minuti primi prima abbiamo ascoltato Marcella Bella che vi ricordo insieme a Fausto Leali si esibirà a Casinorama il 16 di novembre ma oggi fatemi parlare degli amici di oggi siamo ospiti dagli amici di Cataldi Fresh Market esattamente al 140 di Woodbridge Avenue ebbene sì l'avete presente una classica piazza in Italia lì ha una piazzettina con tutti i negozi molto molto carina e simpatica ebbene sì qui ci siamo oggi sembra di essere in Italia nella piazza qui di Market Lane dello shopping center che ci ospita oggi veramente sembra di essere in Italia oggi siamo per conto della ditta San Daniele e Mastro e tantissime offerte hanno preparato per il remote di Cinradio come per esempio alcune offerte sulla mortadella San Daniele 4,99 la libra oppure il salame Baby Genoa marca Mastro da 600 grammi 8,99 l'uno c'è anche la mortadella Baby San Daniele 750 grammi a 8,99 e il prosciutto crudo San Daniele 7,99 la libra o 5,99 la libra intero veramente prezzo incredibile per quanto riguarda il reparto invece carne ci sono le bistecche strip loin certificate Angus beef 8,99 la libra e anche le agnelli locali interi o metà 5,49 la libra i petti di pollo disossati 3,49 la libra sacco da 10 libra e poi i filetti di maiale 3,99 la libra poi per davanti del formaggio c'è anche il parmigiano reggiano 12,49 la libra e il grana padano 9,49 la libra questo e tanto altro qui da Cataldi Fresh Market non solo qui nella trasferta di oggi ma anche nell'altro negozio esattamente al 25,42 di Kill Street tutte queste super offerte che vi ho detto sono valide in questi due negozi quindi venite a trovarci per un caffè espresso per una rosa per tutte le signore gentilmente offerte da Carisma Florist venite a trovarci il nome giusto di oggi è senza dubbio Cataldi Fresh Market esattamente al 140 di Woodbridge Avenue e adesso continuiamo con la musica arriva Biagio Antonacci con Il cielo a una porta sola ed era la voce di Drupi con la canzone vado via alle ore 15 e 53 minuti primi in questo pomeriggio che finalmente c'è il sole c'è il sole stiamo benissimo qui nella trasferta di oggi ovviamente siamo in chiusura della prima ora insieme insieme a Maurizio ebbene sì prima delle news della RAI delle ore 15 andiamo a chiudere questa prima ora insieme insieme ad Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso Dolce Nera con la canzone mai più noi due dall'album Un Mondo Perfetto alle ore 15 e 10 minuti in apertura della seconda ora insieme insieme a Maurizio nella trasferta di oggi oggi ci ospitano gli amici di Cataldi Fresh Market esattamente al 140 di Woodbridge Avenue in una piazza tutta italiana la piazza di Market Lane veramente sembra come ho detto prima di essere in Italia oggi c'è il Festival dei prodotti San Daniele e Mastro tanti assaggini anche il Tonno Rio Mare e questo caffè inglese che veramente vogliono promuovere la Vazza sta promuovendo come dicevo Festival dei prodotti San Daniele e Mastro andiamo a vedere alcune delle strepitose offerte qui da Cataldi Fresh Market quest'oggi sulla mortadella San Daniele 4,99 la Libra e poi ci sono il salame il salame Baby Genoa marca Mastro 600 grammi 8,99 poi la Baby Mortadella marca San Daniele 750 grammi 8,99 l'una il prosciutto crudo San Daniele 7,99 la Libra oppure 5,99 la Libra se uno lo compra intero e per gli amanti come noi italiani del formaggio c'è il parmigiano reggiano in offerta 12,49 la Libra e anche il grana padano 9,49 la Libra e poi il formaggio friulano Salerno 4,99 la Libra così come il crotonese intero marca Mastro 9,99 la Libra poi c'è questo provolone che è molto buono provolone piccantello marca Soresina 9,99 la Libra io vi ricordo che loro hanno la tavola calda qui a Woodbridge e potete ordinare la pizza party size rotonda 18 inch di grandezza margherita peperoni e cheese a 9,99 l'una inoltre loro organizzano catering per ogni occasione che sia un battesimo una comunione una cresima una laurea un anniversario un compleanno chiedete di Carolina o Stefano potete chiamarli al 905 605 5565 venite a trovarci qui da Cataldi Fresh Market in questa deliziosa piazza italiana di Market Lane esattamente al 140 di Woodbridge Avenue e adesso continuiamo con la musica arriva Nina Zilli con la canzone Per sempre e dopo ci ascoltiamo anche Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso alle ore 15 e 20 minuti primi con questa canzone bellezza in canto e nostalgia prima era invece Nina Zilli con la canzone Per sempre ebbene sì caro Curtis andiamo a vedere le previsioni del tempo ebbene sì 13 sono i gradi qui a Toronto e sole splende il sole una serata freschina la temperatura minima di questa notte intorno agli 11-12 gradi per domani cielo nuvoloso con possibilità di temporali 24 però la temperatura massima e 12 la temperatura minima mentre per domenica stessa situazione possibilità di temporali con cielo coperto 21 la temperatura massima 9 la temperatura della notte per lunedì torneremo sui 16 gradi di massima e 9 la minima e andiamo a controllare caro Curtis la situazione invece sul traffico ebbene sì fate attenzione lavori in corso sull'autostata 400 direzione northbound all'altezza di Jane Street e fino all'accesso alla 401 tutte le linee sono chiuse per appunto lavori in corso mentre per quanto riguarda la 401 autostata 401 in direzione eastbound all'altezza della rampa di accesso su Kill Street ci sono lavori in corso e quindi si viaggia a corsie alternate fate attenzione se siete ovviamente da quelle parti mentre altri lavori in corso sulla 401 direzione eastbound all'altezza appunto di Kill Street in tutte e due le direzioni come dicevo fate attenzione lavori in corso corsie alternate quindi mi raccomando mantenete mantenete la distanza di sicurezza fate prudenza se siete alla guida per tutti questi lavori in corso e adesso prima di andarci ad ascoltare Edoardo Bennato caro Curti su un po' di pubblicità Eni una società d'energia a livello mondiale produce oli motori ad alte prestazioni affidabili e di fiducia grazie alla competenza e tecnologia avanzata cercate il macchio con il cane a se zampe per ulteriori informazioni Eni.com a mezzogiorno Edoardo Bennato con le ragazze fanno grandi sogni dal cd omonimo appunto di questo grande artista ebbene sì vi devo parlare adesso un attimino non avete per esempio la macchina per andare a Casinorama oppure vi volete godere questo questi concerti di autunno in maniera totalmente rilassata senza guidare senza pensare a che ora dovete tornare a casa ebbene sì lo potete fare visitando il sito casinorama.com cliccate sulla sulla cosa tours e potete scegliere come andare basta consultare appunto il sito casinorama.com e loro vi porteranno con sé a Casinorama per i grandi concerti di autunno che io ricordo il primo il 5 di ottobre a Casinorama arriva Albano biglietti su ticketmaster.ca oppure direttamente al box office di Casinorama mi raccomando non perdete Albano e andiamo a sentirlo adesso con questa canzone mai 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 Albano a Casinorama Albano con la canzone mai 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 alle ore 15 e 33 minuti primi bene sì non perdete il concerto 5 ottobre Casinorama di domenica Albano vi farà veramente divertire con la sua straordinaria voce e la sua straordinaria musica e bene sì vi devo ricordare di venire qui a trovarci nella trasferta di oggi dagli amici di Cataldi Fresh Market esattamente al 140 di Woodbridge Avenue in questa piazza italiana favolosa di Market Lane veramente una piazza e qui si respira proprio l'aria italiana anche se siamo a 10.000 chilometri di distanza venite perché oggi ci sono i festival dei prodotti San Daniele e Mastro in offerta speciale venite a trovarci da Cataldi Fresh Market esattamente alla 140 di Woodbridge Avenue e adesso continuiamo con musica italiana arriva lui Toto Cotugno voglio andare a vivere dove in campagna voglio andare a vivere in campagna e chi non lo desidera ebbene sì la canzone di Toto Cotugno alle ore 15 e 36 minuti primi vi devo parlare di due cose molto importanti che riguardano CIN Radio ebbene sì domenica appuntamento come al solito on tv su City TV a partire dalle ore 11 e 30 con il festival italiano di Johnny Lombardi questa domenica parleremo dello zucchini contest che si effettuerà domani da Dean Myers poi ci sarà il cantante Brian Roman e poi ci sarà modo anche di cucinare con il cuoco Giacomo Pasquini per il quarto anniversario del Garlic Festival di Toronto inoltre non perdete anche Massimo Nicoletti che parlerà e ci illustrerà la cantante famosissima Noemi non perdete anche la top 10 di CIN Radio e alcuni segmenti della RAI è un occhio l'occhio magico della comunità quindi tutte le domeniche a partire dalle ore 11 e 30 fino alle 14 su City TV non perdete il festival italiano di Johnny Lombardi e poi per quanto riguarda invece già tempo ebbene sì è qui dietro l'angolo il 27esimo CIN Winter Picnic che quest'anno come già sapete sarà si svolgerà a Caio Santa Maria a Cuba all'Asdunas Hotel dal 6 febbraio fino al 27 di febbraio soliti appuntamenti con la spaghettata e poi gli intrattenimenti la gara di scopa la tombola i tornei veramente una cosa come sempre eccezionale un divertimento assoluto vi ricordo che questo Winter Pic quest'anno è direttamente fornito da Noly Tours voi basta che chiamate il vostro agente di viaggio e dovete prenotare subito un bel indirizzo quest'anno Caio Santa Maria a Cuba veramente straordinario il CIN Winter Picnic dal 6 al 27 febbraio e adesso andiamo con la prossima canzone dei Poo Tu vivrai ed abbiamo ascoltato il Poo con la canzone Tu vivrai all'ore 15 e 45 minuti prima di questo venerdì 19 di settembre ebbene sì prima di ascoltare la prossima canzone di Zucchero senza una donna caro Curtis un po' di pubblicità la stagione del vino è arrivata Medo Valley's Garden Center vi offre la migliore qualità d'uva e mosto direttamente da Napa Valley in California Medo Valley Garden Center vanta oltre 40 anni di esperienza e può assistervi con i suoi esperti nella vostra scelta realizzerete quel vino perfetto da portare agli amici e familiari Medo Valley Garden Center al 12201 Kill Street appena su di King Avon aperto tutti i giorni e lo avete riconosciuto tutti senza dubbio Zucchero Fornaciari con la canzone senza una donna ebbene sì andiamo a vedere la situazione del meteo 14 gradi la temperatura qui a Toronto per una minima questa notte di 12 gradi c'è il sole questa è la cosa importante per domani sabato 24 gradi la temperatura massima 12 la temperatura minima con possibilità di temporali così come domenica possibilità di temporali al 60% 21 gradi di massima 9 la minima e andiamo a vedere velocemente anche la situazione del traffico non ci sono per fortuna incidenti ma ci sono lavori in corso sulla 401 all'altezza di Jane Street tutte le linee chiuse fra appunto la 401 e Jane Street quindi fate attenzione se siete da quelle parti e poi mi giungono anche notizie su dei lavori in corso sulla 401 Eastbound Collector all'altezza di Collins Road fate attenzione perché si viaggia a linee a corsie alternate mantenete la distanza di sicurezza mi raccomando e io vi ricordo l'appuntamento di oggi siamo qui dagli amici di Cataldi Fresh Market esattamente alla 140 di Woodbridge Avenue per il festival dei prodotti San Daniele e Mastro oggi si riempie il carrello oggi si fa la spesa con i prezzi ottimi di questo favoloso supermercato vi ricordo alcuni degli special per esempio nel reparto macelleria ci sono le bistecche strip loin certificate angus beef 8,99 la libra e poi gli agnelli locali interi o mezzi 5,49 la libra poi i petti di pollo disossati 3,49 la libra sacco da 10 libra così come i filetti di maiale 3,99 la libra per quanto riguarda gli affettati la mortadella San Daniele è venduta oggi a un prezzo incredibile 4,99 la libra così come il salame Genoa Baby Mastro 600 grammi 8,99 poi c'è la mortadella San Daniele Baby 750 grammi 8,99 e il prosciutto crudo San Daniele 7,99 la libra venite a trovarci per un caffè espresso e per una rosa per tutte le signore gentilmente offerte da Carisma Florist 905 848 2300 Cataldi Fresh Market oggi è il nome giusto al 140 di Woodridge Avenue e concludiamo questa seconda ora insieme con la canzone di Noemi per tutta la vita prima delle notizie con Patrizio Serafini delle ore 16 Liberi o no Raffaele Gualazzi alle ore 16 e 13 minuti primi ad aprire questa terza ora insieme ebbene sì insieme alla trasferta di oggi perché oggi siamo come sempre in trasferta dagli amici quest'oggi di Cataldi Fresh Market nella piazza italiana di Market Lane veramente una piazza squisita si respira italiano esattamente alla 140 di Woodbridge Avenue oggi siamo per conto dei prodotti San Daniele e Mastro due gram di ditte che offrano sempre prodotti di prima qualità a prezzi speciali e andiamo a vedere queste offerte per esempio nel reparto frutta e verdura perché questo negozio di Cataldi è veramente strepitoso c'è il reparto anche frutta e verdura dove possiamo trovare Andy Boy i finocchi Andy Boy 1,29 l'1 oppure le prugne 79 centesimi la libra e i peperoni Shepard 69 centesimi la libra e poi trovate anche le cesti i famosi busciol di pomodori per fare la salsa poi ci sono anche melanzane fagioli ma tantissimo tantissimo altro io vi ricordo di ordinare per esempio la pizza party size rotonda da 18 inches margherita peperoni o cheese a 9,99 l'una loro vi ricordo offrano il catering per ogni occasione per qualsiasi sia la vostra il vostro evento speciale da festeggiare un battesimo una comunione una cresima un anniversario un compleanno e tanto tanto altro dovete solamente telefonare a Carolina o a Stefano 905-605-5565 interno 25 oggi venite a trovarci un caffè espresso una rosa per tutte le signore gentilmente offerte da Carisma Florist festival dei prodotti San Daniele e Mastro qui da Cataldi Fresh Market al 140 di Woodbridge Avenue e adesso continuiamo con la musica italiana arriva lei Giorgia con la canzone Tu mi porti su bellissima questa canzone di Giovanotti dal titolo A te che il cantante ha dedicato proprio alla nascita della figlia qualche tempo fa eccolo qua è ritornato tra noi il signor Miele da oggi il signor Miele che sarebbe rappresentante famosissimo con la R maiuscola Peter che ci fa sempre compagnia nei remote ebbene si è tornato tra noi chissà dove è andato glielo chiederemo più tardi ma adesso caro Curtis andiamo a controllare la situazione del traffico allora sull'autostrada 400 sempre lavoro in corso all'altezza di Jane fra Jane e la 401 quindi fate attenzione se siete da quelle parti e anche sulla autostrada 400 direzione northbound ci sono lavori in corso all'altezza di Kill Street fate attenzione mantenete la distanza di sicurezza e poi per fortuna non ci sono incidenti vi ricordo che il rapporto sul traffico vi è offerto dall'EGAT Chevrolet Buick GMC approfittate del tasso zero fino a 84 mesi sui veicoli selezionati selezionati telefonate a Roberto Morano al 416 836 07 97 e per quanto riguarda le previsioni del tempo 15 sono i gradi qui a Toronto e c'è il sole finalmente per una serata con temperatura minima di 12 gradi domani sabato possibilità di temporali al 60% una temperatura massima di 24 gradi una minima di 12 mentre per domenica sempre probabilità di temporali temperatura massima 21 temperatura minima nella notte 9 gradi e adesso continuiamo con la musica e la volta di Eros Ramazzotti ma prima un po' di pubblicità è tempo di vendemmia e Vinbon come sempre vi offre mostri di altissima qualità da uve californiane qualità limitate di uva dalla California sono in vendita presso la sede di Scarboro Vinbon con più di 20 sedi 416 746 45 01 Eros Ramazzotti con questa splendida canzone adesso tu alle ore 16 e 33 minuti primi e bene sì io vi rinnovo rinnovo l'appuntamento di oggi qui da Cataldi Fresh Market nella piazza italiana di Market Lane al 140 di Woodbridge Avenue per conto di San Daniele e Mastro offerte eccezionali venite a trovarci perché Tony di Cataldi mi ha appena fatto un caffè espresso eccezionale buonissimo caffè espresso marca Lavazza ovviamente quindi venite anche voi e provare per credere il caffè più buono veramente che abbia mai preso qui in Canada quindi un grazie particolare a Tony e io vi invito a venire fino alle ore 18 saremo qui con voi dagli amici di Cataldi Fresh Market esattamente alla 140 di Woodbridge Avenue e adesso torniamo torniamo alla musica eccolo qua Fausto Leali che vi ricordo si esibirà insieme a Marcella Bella domenica 16 di novembre a Casinorama con questa canzone ora che ho bisogno di te inevitabile follia così rough questa bella canzone dall'album Svegliarsi un anno fa del 1988 prima abbiamo ascoltato Fausto Leali con la canzone ora che ho bisogno di te e Fausto Leali come ho detto prima insieme a Marcella Bella si esibiranno domenica 16 di novembre a Casinorama vi ricordo per biglietti visitate il sito ticketmaster.ca oppure direttamente al box office di Casinorama e adesso vi devo parlare per un attimo del 27esimo Cin Winter Picnic bene sì quest'anno si svolgerà a Caio Santa Maria in quella di Cuba presso l'hotel Las Donas dal 6 di febbraio fino al 27 di febbraio come al solito tanto divertimento la spaghettata gli intrattenimenti le gare di scopa e di tombola tantissimi tornei e vi ricordo che il Cin Winter Picnic del 2015 è un'esclusiva di Noly Tours importantissimo dovete richiedere non dimenticate di richiedere il vostro braccialetto per partecipare a tutte le attività chiamate il vostro agente di viaggio e prenotate subito per questo 27esimo Cin Winter Picnic e adesso torniamo alla musica ebbene sì arriva Rocco Ant con New Yorn Buono Rocco Ant con New Yorn Buono alle ore 16 e 49 minuti primi e adesso caro Curtis è il momento di controllare la situazione del traffico allora per fortuna non ci sono incidenti il traffico di rientro ma senza incidenti per fortuna ci sono solo problemi per quanto riguarda i lavori in corso sulla autostrada 400 direzione northbound all'altezza di James Street e fino all'autostrada 401 ci sono lavori in corso quindi fate attenzione se siete in quella zona così come nell'autostrada 401 direzione S-bound all'altezza di Kill Street sulla collector sulla rampa ci sono lavori in corso quindi fate attenzione se siete da quelle parti e sto controllando anche lavori in corso sulla 401 eastbound all'altezza di Allen Road ci sono una corsia istruita per il lavori in corso quindi fate attenzione mantenete le distanze di sicurezza e adesso la situazione sul meteo 14 sono i gradi qui all'esterno qui a Toronto in questo momento c'è il sole per una minima di stanotte che scenderà a 12 domani nuvoloso possibilità di temporali al 60% ma una temperatura massima di 24 gradi una minima di 13 nella notte per quanto riguarda domenica brutta giornata nuvolosa con probabilità di temporali al 70% 21 la temperatura massima 8 la temperatura minima ebbene adesso torniamo alla musica arriva Neffa con la canzone La Notte ma prima un po' di pubblicità e abbiamo ascoltato Neffa con la canzone La Notte ebbene sì io vi rinnovo l'appuntamento della trasferta di oggi siamo dagli amici di Cataldi Fresh Market nella piazzetta italiana di Market Lane esattamente al 140 di Woodbridge Avenue per approfittare del Festival dei prodotti San Daniele e Mastro oggi in offerta con assaggini di tonno rio mare poi ci sono gli assaggini dei prodotti San Daniele e Mastro un caffè espresso ottimo che fatevelo fare da Tony io vi consiglio perché fa degli espressi eccezionali caffè espresso lavazza ovviamente vi ricordo alcune delle offerte sulla mortadella San Daniele 4,99 la Libra anche il salame Genoa Baby Marca Mastro 600 grammi 8,99 l'1 e poi la Baby Mortadella San Daniele 8,99 l'1 e poi il prosciutto crudo San Daniele 7,99 la Libra venite venite a trovarci Cataldi Fresh Market al 140 di Woodbridge Avenue vi aspettiamo e adesso chiudiamo la terza ora insieme prima delle notizie con Patrizio Serafini con questa canzone di Adriano Celentano a più tardi Ilegramaro con nuvole e lenzuola dall'album mentre tutto scorre ad aprire questa quarta e ultima ora insieme insieme alla CIN a Maurizio e insieme agli amici di Cataldi Fresh Market esattamente al 140 di Woodbridge Avenue per i prodotti Festival sui prodotti San Daniele e Mastro e andiamo a leggere i numerosi specials che questo supermercato vi offre quest'oggi per esempio l'olio extravergine d'oliva marca San Giuliano bottiglia da un litro 7,77 e anche l'aceto balsamico marca Mastro da mezzo litro 1,99 offerta anche sull'acqua naturale San Benedetto 6 bottiglie da un litro e mezzo 3,99 la cassa e sul caffè inglese marca Lavazza da 340 grammi 5,99 inoltre inoltre il caffè espresso sempre marca Lavazza crema rossa o crema e gusto da 250 grammi 1,99 la confezione un prezzo veramente formidabile e poi ci sono gli gnocchi Mastro da mezzo chilo 1,49 poi il tonno tonno Rio Mare in olio d'oliva 3 barattoli da 80 grammi a 3,99 e anche le famosissime insalatissime Rio Mare da 160 grammi 3,49 vi ricordo che nel reparto macelleria ci sono offerte per quanto riguarda le bistecche strip loin certificate Angus Beef 8,99 la libra così come gli agnelli locali interi o mezzi 5,49 la libra offerta anche sul petti di pollo disossati 3,49 la libra per un sacco da 10 libra poi filetti di maiale 3,99 la libra ebbene sì venite a trovarci per gli assaggini dei prodotti Sandanelle Masson una rosa per tutte le signore gentilmente offerte da Carisma Florist per ogni esigenza Floreale 905 848 2300 Cataldi Fresh Market il nome giusto di oggi al 140 di Woodbridge Avenue continuiamo adesso con la musica arriva lei Bianca Asdei e poi dopo Mango ed abbiamo ascoltato Mango con la canzone Scrivimi alle ore 17 22 minuti primi prima era Bianca Asdei con Non è vero mai ebbene sì caro Curtis diamo un'occhiata velocissima al traffico aggiorniamo la pagina non ci sono per fortuna incidenti traffico scorrevole e di rientro ci sono solo come dicevo dei lavori in corso per esempio sull'autostrada 400 in direzione northbound all'altezza di Jane Street fino all'inizio dell'autostrada 401 fate attenzione perché ci sono lavori in corso quindi si viaggia molto lentamente e per quanto riguarda sempre l'autostrada 401 però in questo caso all'altezza di Kill Street in direzione northbound southbound in tutte e due le direzioni ci sono lavori in corso quindi fate attenzione si viaggia a corsie alternate e per il resto tutto regolare e vi ricordo che il traffico è portato a voi da Serpa BMW qualità valore e servizio al cliente rispetto fiducia e gioia Serpa BMW a New Market e adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo 14 sono i gradi qui a Toronto in questa giornata che finalmente c'è il sole per una minima questa notte di più 12 per domani possibilità di temporali al 60% una temperatura massima di 24 gradi una minima di 13 per domenica stessa situazione più o meno possibilità al 70% di temporali temperatura massima di 21 minima nella notte 13 gradi e adesso ascoltiamoci un po' di pubblicità da oltre 30 riprendiamo la diretta alle ore 17 26 minuti primi ebbene si non avete la macchina per andare a vedere concerti a Casinorama e allora è proprio facile questa cosa fa proprio per voi andate sul sito casinorama.com cliccate su tours e potete scegliere il posto vicino a voi dove prenotare e prendere l'autobus che vi porterà a Casinorama vi porterà a Casinorama per esempio per il concerto del grande Liga Bue il 18 ottobre di sabato vi raccomando per biglietti andate sul sito ticketmaster.ca oppure direttamente presso il box office di Casinorama eccolo qua Liga Bue con Tra Palco e Realtà l'energia e il rock di Liga Bue con la canzone Tra Palco e Realtà l'avete già prenotato il billetto fatelo subito adesso andate sul sito ticketmaster.ca oppure presso il box office di Casinorama per questo strepitoso concerto sabato 18 ottobre Liga Bue in concerto e adesso alle ore 17 e 32 minuti primi vi voglio ricordare l'appuntamento con la trasferta di oggi perché oggi siamo in un posto meraviglioso da Cataldi Fresh Market esattamente nella piazzetta di Market Lane al 140 di Woodbridge Avenue per il festival dei prodotti San Daniele e Mastro venite a trovarci a Saggini fra l'altro anche di Tonno Rio Mare e poi un ottimo caffè espresso preparato con cura da Tony che vi assicuro è eccezionale il nome giusto di oggi è senza dubbio Cataldi Fresh Market esattamente al 140 di Woodbridge Avenue e adesso torniamo alla musica e la volta di Dear Jack con La pioggia è uno stato d'animo La splendida voce di Michele Zarrillo con la canzone Una Rosa Blu alle ore 17 e 42 minuti primi prima abbiamo ascoltato una bella canzone di Dear Jack la pioggia è uno stato d'animo e vi devo parlare del festival italiano di Johnny Lombardi tutte le domeniche live su City TV a partire dalle ore 11 e 30 fino alle 2 del pomeriggio questa domenica ospite il famoso cantante Brian Roman ed inoltre si parlerà dello Zucchini Contest che si effettuerà appunto domani giunto alla sua ventesima edizione inoltre potete cucinare in diretta con lo chef Giacomo Pasquini e poi ci sarà appunto il grande Massimo Nicoletti che presenterà la cantante Noemi e poi come al solito la top 10 di Radio Cin alcuni segmenti della Rai e un occhio magico alla comunità non perdete il festival italiano di Johnny Lombardi tutte le domeniche su City TV alle ore 11 e 30 e adesso caro Curtis andiamo a vedere la situazione sul traffico allora attenzione c'è un incidente sulla 404 in direzione sud all'altezza di Stills Avenue la corsia centrale dell'autostrada è bloccata e impegnata da questo incidente fate attenzione mi raccomando poi per quanto riguarda sempre il solito problema di lavori in corso sull'autostrada 400 in direzione northbound all'altezza di James Street fino all'altezza della 401 le corsie sono impegnate appunto da questi lavori in corso fate fate attenzione mantenete la distanza di sicurezza è importante e adesso per quanto riguarda il tempo sono 14 gradi qui a Toronto c'è il sole per fortuna una serata fresca una minima di 12 gradi ma cielo sereno a partire da domani sabato probabilità di temporali al 60% e con una temperatura massima di 24 gradi una minima nella notte di 13 gradi per quanto riguarda domenica stessa situazione più o meno 21 gradi di massima 13 di minima con possibilità di temporali al 70% e adesso andiamo ad ascoltarci una bella canzone di Giusy Ferreri ma che freddo fa ma prima un po' di pubblicità è tempo di vendemmia e vimbo Giusy Ferreri con la canzone ma che freddo fa alle ore 17 e 50 e bene siamo giunti al mio ultimo intervento qui dagli amici di Cataldi Fresh Market esattamente alla 140 di Woodbridge Avenue ebbene sì io vi ricordo che le offerte sono valide sia in questo negozio che anche in quello di Cataldi Fresh Market al 2542 di Kill Street e sono valide fino a martedì vi voglio ricordare questo e andiamo a vedere alcuni special per esempio sull'olio extravergine d'oliva marca San Giuliano bottiglia da un litro 7,77 l'aceto balsamico da mezzo litro marca Mastro 1,99 così offerta anche sull'acqua San Benedetto naturale 6 bottiglie da un litro e mezzo 3,99 la cassa poi nel reparto macelleria bistecche strip loin certificate angus beef 8,99 la libra e poi gli agnelli locali interi o metà 5,49 la libra offerta ottima anche sui petti di pollo disossati 3,49 la libra per un sacco da 10 libra e poi offerti anche sui filetti di maiale 3,99 la libra ebbene sì siamo giunti al momento dei saluti per quanto mi riguarda voglio ringraziare gli amici di Cataldi Fresh Market che ci hanno gentilmente ospitato quest'oggi e un grazie particolare a Tony Cataldi che si è seduto qui accanto a me per l'ultimo intervento voglio ringraziare anche il signor Miele da oggi come ho detto il signor Miele e poi ovviamente Curtis in regia e Mystic Mike qui in esterna buon weekend da parte di Maurizio ci vediamo ci sentiremo presto e chiudiamo questa giornata con la canzone di Arisa Fragili ciao a tutti Fragili sei tutto